Il rigore ragazzi, facciamo il rigore in diretta, cazzo, il rigore in diretta, reaction live, che se lo sbaglia sfondo la tv, comunque il rigore è nettissimo, lo ha acciaccato, guardalo, ma guarda, ma come cazzo fai? Mi ha messo il cazzo in bocca, intanto un albanese ha mangiato, oppure un italiano, non lo so, comunque mangi, due, lo tirano i pusciagli, un marolo dei rossi, lo sapeva, magari, i ragazzi, hanno sempre i rigori, capisco se era Geco, se fosse stato Geco, anzi, per l'Italia, sì, vabbè, ma l'albio vuole farli battere poche cose lì? No, guarda, ma scusa, ma di che se lamentano? Ma mi spieghi come fai a fare qualcosa del genere? Sparoteo Si, davvero rossino No, dai, è un gufo Un romalazzo anticipato, incredibile Dovete, dai, che dobbiamo segnare Partite rossi mamma mia dopo il fil di palo e andiamo e andiamo ma sa quanto siamo oscuri comunque io ti doverò sempre dire che siamo una bella squadra ragazzi ragazzi ci va sempre dare la gomma in bocca e infatti va se gli va giù perché no poi devi vedere io mi sono annoiato da un sacco di cose dai raga al prezzo si va a lavare le mani che era appena ce l'ho d'accesso